MrBeast è lo youtuber più famoso al momento, ha 132 milioni di iscritti e ogni suo video è più assurdo del precedente. Ha fatto dei video in cui il vincitore di una challenge riceve un'isola in regalo, ha ricreato Squid Game nella vita reale con dei veri partecipanti e oltre a queste challenge ha fatto anche moltissimi video di beneficenza in cui aiuta le persone spendendo milioni di dollari. Un esempio è il suo ultimo video in cui ha curato mille persone non vedenti e che grazie a lui ora possono vedere. Un bel gesto potreste pensare ed è quello che ho pensato anch'io, ma non è quello che hanno pensato migliaia di persone che hanno trovato quel video scandaloso o addirittura demoniaco e che ora vogliono cancellare definitivamente MrBeast e il motivo per il quale vogliono farlo è ridicolo a dire poco. E una cosa da tenere a mente è che ogni volta che MrBeast pubblica un video si crea anche una piccola polemica tanto che raggiungono decine di milioni di views, ma in questo caso la polemica è stata più grave del solito tant'è che anche MrBeast ha deciso di rispondere. Dunque oggi parleremo di tutta questa storia e scopriremo il motivo per il quale migliaia di persone vogliono cancellare lo youtuber più famoso al mondo. Ma se state guardando questo video senza essere iscritti sappiate che avrete un 83% di probabilità di venire cancellati su Twitter per non aver fatto assolutamente nulla. Io non rischierei. Ma come vi dicevo il video incriminato è l'ultimo e di qualche giorno fa e in questo video spiega come la metà delle persone che nel mondo potrebbe essere curata perché hanno la tecnologia per farlo con un'operazione di 10 minuti. Il problema ovviamente è che non rende possibile tutto questo sono i soldi. Ed è qui che entra in gioco lo youtuber più ricco al mondo che ha deciso di fare un video in cui paga l'intervento a mille persone. E guardando il video ci vengono mostrate anche le reazioni delle persone dopo l'intervento. Ed è davvero bello vedere queste reazioni quanto sono felici sapendo che quell'intervento ha per sempre cambiato la loro vita mille volte meglio. Ma non tutti la pensano così. C'è qualcosa di così demoniaco in questo e non riesco nemmeno a spiegare cosa sia. Con sotto uno screen del video di MrBeast e 87.000 persone hanno messo like a questo tweet. Forse il motivo per il quale non riesce a spiegare cosa ci sia di demoniaco potrebbe essere perché non c'è nulla di demoniaco. E questo è stato solamente il tweet più virale ma c'è stata una vera e propria shitstorm contro MrBeast su Twitter. Che coincidenza che è successo proprio su Twitter. MrBeast non ha fatto quello che ha fatto per aiutare le persone MrBeast l'ha fatto per essere lodato e per le attenzioni. Ecco perché è una merda. Se una persona ricca fa una cosa buona e te lo dice è perché vuole che tu pensi che sia una brava persona. Questo è il motivo che ho letto più spesso tra le persone che hanno effettivamente provato a spiegare perché hanno trovato scandaloso il suo ultimo video invece di limitarsi a dire che è demoniaco. E personalmente penso che questa cosa non abbia assolutamente senso. Partendo dal presupposto che sì, MrBeast ci sta guadagnando senza dubbio nel fare quel video. Sarebbe falso dire il contrario e nemmeno lui ha mai cercato di negarlo. Ma bisogna anche capire che per fare questi video lui spende moltissimi soldi. Gli sono stati dei video che gli sono costati dei milioni. Certo, è un investimento che lo fa guadagnare nel momento in cui pubblica il video ma se una parte di quel guadagno lo usa per finanziare il prossimo progetto e quel progetto come in questo caso aiuta migliaia di persone non capisco che problema ci sia. Nessuno ci sta perdendo nulla. Avrebbe potuto fare un qualche altro video inutile di pure intrattenimento senza aiutare nessuno ma ha scelto di spendere centinaia di migliaia di euro per curare la cecità di migliaia di persone. Cioè, tra tutti gli influencer che guadagnano milioni nei peggiori modi possibili, tra chi pubblicizza crypto ed NFT sapendo che sono spazzatura, chi sponsorizza gioco d'azzardo, tra chi finge di fare beneficenza e chi finge di non doparsi per vendere integratori, tra tutte queste persone decidono di prendersela con quello che guadagna facendo veramente del bene per delle persone. E sinceramente, mi sorprende che questa polemica sia esplosa solo ora. Non prentenetemi, c'è sempre stata gente che odiava MrBeast perché è ricco ma non capisco perché dopo questo video così tante persone se la sono presa con lui. Perché molte altre volte ha aiutato delle persone ma non solo, ha anche dato il via a dei progetti per piantare milioni di alberi nel mondo e per ripulire le spiagge e il mare dai rifiuti. Questo per dire che non è una novità che faccia delle cose del genere ma per qualche motivo questa è stata peggio delle altre. E una delle critiche colletto più spesso contro di lui è che non dovrebbe rendere pubbliche queste cose quando fa atti di beneficenza perché se lo rende pubblico vuol dire che l'ha fatto solo per guadagnarci. In realtà questa cosa la sento anche per altre situazioni non solo contro MrBeast che la beneficenza si va in silenzio. E senza fare gli ipocriti siamo tutti più o meno d'accordo che rendere pubblico un atto di beneficenza così grande porta un ritorno economico o d'immagine. Va bene. Ma questo non toglie nulla al gesto che ha fatto. Alle mille persone a cui ha cambiato la vita con questo video non è cambiato qualcosa. Non è che la loro operazione non funziona più perché MrBeast ci sta guadagnando con quel video. Certo, poi se vogliamo e se abbiamo molto tempo libero possiamo metterci a discutere sulle vere intenzioni di chi fa beneficenza e lo mostra al pubblico. E magari pensare che se non avesse un canale YouTube non l'avrebbe mai fatto. Ma queste sono solo parole. I fatti sono che lui ha cambiato la vita a mille persone che erano cieche questa gente che sta su Twitter a lamentarsi non ha fatto nulla di positivo per nessuno. E questa è davvero una cosa assurda. Tutta questa gente su Twitter che lo sta insultando e accusando di essere demoniaco e di essere un mostro. È gente che non ha mai fatto nulla per nessuno. Che non ha mai fatto beneficenza in vita sua. E basta scorrere al canale di MrBeast per vedere quante cose ha fatto per le persone e per l'ambiente. È probabile che abbia fatto più cose lui per il mondo che l'intero albero genealogico di queste persone che passano le giornate su Twitter a insultare le celebrità. E nonostante questo hanno comunque il coraggio di insultarlo perché ci guadagna mentre aiuta le persone. Ma benvenga che ci guadagna a questo punto. soprattutto se una persona come lui che almeno una parte di quello che ci guadagna la userà di nuovo per aiutare altre persone. Anche perché una cosa che le persone che lo criticano perché fa beneficenza in pubblico non considerano è che lui ha un pubblico davvero enorme. E milioni di persone che lo seguono e lo stimano possono prenderlo come esempio per fare anche loro del bene. Lui può fare queste cose incredibili perché ha un budget enorme. Ma tutti volendo nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa. E vedere qualcuno con influenza così grande sulle persone comportarsi in questo modo sinceramente penso che sia più che positivo. Un altro tweet sull'argomento sempre in risposta a quello che è andato virale è questo. I ricchi adorano fare beneficenza in pubblico perché li fa sembrare degli eroi e ci guadagnano. MrBeast fa questo invece di cercare di migliorare la situazione perché se la situazione migliorasse non avrebbe contenuti da fare. In altre parole il modello di business di MrBeast si basa sulla sofferenza della classe povera. Partendo dal presupposto che io tutti questi ricchi che non vedono l'ora di fare beneficenza non li ho mai visti. Se qualcuno li conosce magari gli può dare il mio contatto così almeno ne approfitto anche io dato che a quanto pare regalano i soldi a destra manca. Seconda cosa non è che non credo che non ci sia un fondo di verità in quello che dice che spesso chi si fa vedere mentre fatti caritatevoli lo fa anche per ritorno personale. Ma il punto della questione è che anche se qualcuno fa un atto di beneficenza il fatto che ci stia guadagnando nel farlo non rende inutile l'atto di beneficenza in sé. Possiamo speculare sulle sue vere intenzioni ma intanto ha comunque fatto qualcosa di buono e sa farlo è un influencer in questo caso il più famoso al mondo su YouTube ancora meglio si chiama un influencer per un motivo e se può influenzare positivamente centinaia di migliaia di persone ben venga. E oltre a questo no non è vero che tutto il suo canale si basa sul fare beneficenza e basterebbe guardare il suo canale ma quello è un altro discorso. Ma come vi dicevo anche MrBeast ha risposto prima con un tweet più serio in cui dice che non capisce come mai il governo non curi le persone che soffrono ci cita curabile perché anche pensando solo da un punto di vista economico ci guadagnerebbero perché sono persone che riottengono la possibilità di lavorare all'interno della società e questo tweet ha fatto arrabbiare ancora di più quelle persone perché l'hanno accusato di guardare le cose solamente da un punto di vista dei soldi e che rappresenta tutto quello che c'è di sbagliato nel capitalismo cosa che in realtà non ha mai detto ha detto che anche guardando le cose dal punto di vista di un governo che pensa soltanto a un guadagno economico curare quelle persone sarebbe comunque una cosa giusta da fare ma si sa che le persone capiscono quello che vogliono capire quindi niente di nuovo successivamente ha risposto anche con un altro tweet stavolta più ironico dicendo Twitter le persone ricche dovrebbero aiutare gli altri con i loro soldi io ok userei i miei soldi per aiutare le persone e prometto di donare tutti i miei soldi prima di morire ogni singolo centesimo Twitter MrBeast è cattivo e direi che è il perfetto riassunto di questa situazione se non aiutasse gli altri con tutti i soldi che ha sarebbe criticato se lo fa viene criticato lo stesso dunque sì questa è la mia opinione su questo recente scandalo che ha riguardato MrBeast youtuber più famoso al mondo mi rendo conto che nel 2023 potrebbe essere un'opinione controversa ma non penso che aiutare le persone ti renda un mostro e che qualcuno si meriti i peggiori insulti per averlo fatto ma adesso sono curioso di sapere cosa ne pensate voi ringrazio di cuore tutti gli abbonati su YouTube e su Patreon e detto questo direi che ci becchiamo alla prossima ciao Grazie a tutti